Benvenuti, cari ricercatori. Oggi parleremo, come vi ho detto, dei disagi, ma soprattutto della comunicazione energetica consapevole. La comunicazione energetica consapevole presuppone però, ovviamente, che noi siamo esseri di energia e questo credo che sia un concetto abbastanza acquisito. Essendo esseri di energia, la nostra vibrazione peculiare parla per noi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi siamo in un determinato stato, la nostra vibrazione energetica comunica a quelli che sono intorno a noi questo nostro stato. È chiaro che se noi, con le parole o con il linguaggio gestuale, contraddiciamo questa comunicazione profonda e vera, ovviamente si creano delle incomprensioni, si creano delle situazioni di conflitto. Perché? Perché di fatto energeticamente diciamo una cosa e magari con le parole ne diciamo un'altra. Quello che è importante è, prima di tutto, considerare la comunicazione energetica di noi con noi stessi. Come vi dicevo già nelle puntate precedenti, spessissimo questa è disattesa. Perché di fatto noi siamo portati a esteriorizzarci piuttosto che a guardarci dentro. E allora non cogliamo tutte quelle informazioni, tutte quelle indicazioni che ci potrebbero far cambiare rotta quando questa rotta non funziona per noi. Dal punto di vista energetico non esiste un modello al quale noi dobbiamo rapportarci. Esiste semplicemente la congruità con quello che noi siamo. Perché ripeto, da qualche parte noi siamo perfetti, siamo sani, siamo interi, siamo integri. E quindi semplicemente dobbiamo ritornare a essere o a frequentare quel livello. Nella nostra società l'attenzione è posta prevalentemente sugli aspetti materiali. Ma questo non implica che non esistano altri livelli, come ripeto, e che valga la pena di ascoltarli. Valga la pena per un motivo molto semplice. Perché se noi siamo armonici, se noi siamo noi stessi, creiamo armonia intorno a noi, creeremo un mondo più armonico, ma soprattutto stiamo bene, cioè non ci ammaliamo. E questo mi sembra un motivo più che sufficiente. Allora, come vi ho già detto, useremo il campanello emozionale, il disagio, per identificare che cosa non va nella nostra vita e soprattutto cercheremo di recuperare tutti i talenti e tutte le nostre capacità per cambiarlo. Ripeto, è una cosa che noi possiamo fare, l'ho visto fare tante volte. E quindi non spaventatevi, non c'è nulla al di fuori delle vostre capacità, perché la chiave è dentro di voi.